ciao a tutti dunque ora mi metterò a leggere delle cose che voi avete scritto nei vostri nei miei commenti ovviamente cercherò di essere il più carina possibile però non posso evitare le parolacce se voi le scrivete quindi se siete sensibili alle parole alle parolacce passate avanti passate al prossimo video passate a qualcun altro ecco arriva dal punto in bianco qualcuno non dico il nome perché se non mi ammazzate e tu sei un povero imbecille che generalizza nel nome di dio ha detto così imbecille sei tu e anche represso risposta impiccati che sarebbe anche l'ora pezzo di imbecille con le ruote tira lo sciacquone non si capisce cosa cosa sia un imbecille con due ruote al limite con due piedi siccome umano però non lo so sarà un rubro un robot imbecille tira lo sciacquone cosa c'entra non si sapeva che lui fosse andato alla toilette però ci fa sapere questo forse protettivo non vuole puzza per casa non so andiamo avanti tu impiccati a testa sotto che ci sei abituato coglione e poi lo smile sono delle persone in preda alla pena di morte cioè vogliono la pena di morte a tutti i costi ecco da quello che ne so l'impiccagione ancora possibile in america in europa non credo molto risposta ma crepa male coglione come se ci fosse un modo di crepare buono al limite uno muore nel sonno non muore bene ma se crepa secondo me non è che si fa una bella fine è proprio un verbo abbastanza antipatico di suo e poi gli temi voi andiamo avanti alla risposta eravamo arrivati eravamo arrivati ma crepa male coglione e la risposta è coglione andato a male ci sono dei coglioni che invece sono conservati perfettamente mi stavo chiedendo perché io sono una persona arida sono una persona arida guardo le cose pratiche per quindi per cui non capisco mi faccio delle domande e per questo che mi vedete così tormentata oggi risposta vai a spalare merda di quella liquida come te de mente a ok cioè vuole dire che la mucca o gli animali in questione ha dei problemi di intestinali ne prendiamo atto ci dispiace per la mucca cioè io mi dispiace per le mucche cioè insomma povere bestie sono così carine risposta buttati nell'acido merdaccia brutta fine voglio dire vi odiate ma proprio buttarsi nell'acido secondo me non lo fa è solo quello il fatto è io ti dico che secondo me non non avrà successo il tuo appello infatti non ti ha risposto e questo che mi dispiace dovete continuare a litigare così io almeno faccio visualizzazioni comunque vi ringrazio entrambi e siete fantastici stavo morendo da ridere quando ho visto tutto questo cioè proprio una cosa che mi fa mi fate impazzire quando fate così bene io vi ringrazio bacione a tutti ciao ciao e alla prossima